Quello che vedete è dove eravamo rimasti l'ultima volta, quindi abbiamo ricavato A con F in funzione di A con E che è definita come VO su VS per beta uguale 0. Va bene? Quindi, come vi dicevo l'altra volta, questo ricorda l'espressione che abbiamo trovato in generale nel caso di sistemi in reazione. Adesso che cos'è che ci manca? Ci manca il fatto di verificare insieme come si calcola A con E. Però abbiamo definito A con E, abbiamo detto che in funzione di A con E si può esprimere A con F, ma non abbiamo fatto il calcolo di A con E. E facciamo questo adesso. Iniziamoci a fare il calcolo. Viacquole. Stiamo considerando, giusto vi ricordo, il calcolo. In caso di prelievo di tensione e inserzione di tensione, quindi questa è la situazione. Allora, com'è che facciamo a fare il calcolo? Semplicemente così, a posto di beta, sostituiamo il circuito equivalente. Questo è VO, questo è VO, questo è VO beta, che ovviamente sono uguali. E a posto di A, anche qua in questo caso, mettiamo un circuito equivalente. Nel fare questo noi stiamo esplicitando la considerazione del fatto che consideriamo due circuiti unidirezionali, no? Quindi A va in questa direzione e beta va nell'altra direzione. Questo è A, questo è beta. Allora, che cos'è A con E? A con E, per definizione, è la grandezza di uscita, che è una tensione, la grandezza di ingresso, che è una tensione. In questo caso, calcolate spengendo il generatore indipendente, quindi dipendente, cioè con beta con E0. Questo vuol dire che questo lo dobbiamo spegnere. Spegnere un generatore di tensione vuol dire farlo diventare un cortocircuito, quindi un generatore nullo. Allora, a questo punto è abbastanza facile il calcolo, perché chiaramente noi abbiamo V con S, a V con S possiamo trovare VI, da VI abbiamo a VVI e da VVI abbiamo VO. Quindi è abbastanza banale, facciamolo per gradi, devo fare qua VS, poi c'è un partitore di tensione, quindi per RI diviso RI più RS più RO beta, una volta che ho VI ho a VVI e allora VO è a VVI che moltiplica il partitore, cioè RL in parallelo a RI beta diviso RO più RL in parallelo a RI beta. Quindi con un meccanismo qua di questo tipo. Sostituisco e quindi viene fuori quello che voglio, cioè A con E uguale, devo fare V su VS per beta uguale a 0, quindi viene a V che moltiplica un partitore per ancora un altro partitore. Quello che si vede bene è che chiaramente A con E dipende da tanti termini, quindi dipende ovviamente dalla rete di A, ma non solo, questo è quello che volevo sottolineare, cioè quando facciamo il conto con i sistemi e questa apposta di A con E, abbiamo A che dipende soltanto dalla rete di A, vedete A con E è un po' più complicato perché dipende da cosa metto sul carico, vedete c'è l'RL qui, dipende dalla rete di beta perché c'è RI e R beta, dipende anche dal generatore, quindi di fatto A con E dipende da tutto il circuito che costruisco, non soltanto dalla rete di amplificazione. Ok? Comunque ce l'abbiamo a questo punto, quindi l'abbiamo calcolato, faccio un passo indietro, possiamo calcolare A con F e quindi abbiamo l'espressione completa. Quindi dobbiamo essere in grado di, ricapitolando, prima decidere qual è il tipo di reazione, poi di conseguenza calcolare la rete del beta e poi calcolare il valore di A con E e a questo punto abbiamo tutto. Oh, la cosa interessante è che abbiamo veramente un sacco di informazioni in più, per esempio abbiamo anche delle informazioni su impedenza di ingresso e impedenza di uscita. Facciamo conto dell'impedenza di ingresso, vedete, al circuito da disegnare è praticamente questo, perché l'impedenza di ingresso che cos'è? È il rapporto VS su VI quando RS tende a 0, perché va calcolato supponendo di avere un generatore di ingresso ideale. Facciamo conto dell'impedenza di ingresso utilizzando il circuito che abbiamo utilizzato ora. Facciamo conto dell'impedenza di ingresso. Facciamo conto dell'impedenza di ingresso. Facciamo conto dell'impedenza di ingresso. Ok? Allora, quindi ricapitolando, questa è la corrente che passa nel generatore, per definizione la resistenza di ingresso, chiamo RF in questo caso, dove la F mi sta per feedback, no? Quindi è la resistenza di ingresso del sistema reazionato, ok? In reazione. Allora, per definizione Vs su S per RS uguale a zero. D'accordo? Quindi, beh, tra parentesi io l'ho ridisegnato a parte, ma in realtà il circuito è questo qui, è lo stesso di prima, non è cambiato proprio niente, però giusto per riportarlo da questa parte. Ma insomma, come devo fare? Is la posso calcolare perché basta scrivere l'espressione alla maglia di ingresso, vedete? C'è Vs più beta Vb, che è la somma dei generatori della maglia di ingresso, diviso la somma delle resistenze della maglia di ingresso, che è questa qui. Ok? Poi a questo punto io mi devo solo ricordare che in realtà Vo beta è uguale a A con F per, Vo beta è Vo, questo lo posso scrivere subito, perché tanto l'ho già detto un sacco di volte, Vo è questo uguale a Vo beta, in questo caso particolare. Quindi questo è Vo, posso scrivere Vo e via. E Vo è A con F per Vs, scusate, per definizione. D'accordo? Dove A con F è A con E diviso 1 meno beta con E, che l'ho già calcolato. Quindi io posso prendere questa espressione e metterla al posto di Vo, così porto in evidenza Vs. Allora, quindi cosa mi viene fuori? Mi viene fuori questa cosa. Mi viene Is uguale a Vs che moltiplica 1 più beta, poi qui devo mettere A con E diviso 1 meno beta A con E, tutto diviso, Rs più Ri più R o beta. E qui posso fare un altro passaggino, semplicemente mettendo 1 meno beta con E al denominatore. Se faccio così, qua mi viene 1 per Vs, quindi semplicemente Vs. Questa è l'espressione. Quindi, se la riscrivo sotto, Rif è uguale a Vs diviso Is per Rs uguale a 0, e quindi ecco il conto che ho fatto qua. Devo fare, faccio questo col limite per Rs uguale a 0, quindi vuol dire che viene Ri più R o beta, perché Rs sparisce, e poi qui c'è un 1 meno beta, A con E dipende da Rs, è l'unico termine che dipende da Rs, quindi qui devo mettere A con E calcolato per il resto uguale a 0. E questa è un'espressione importante da ricordare. Vedete, cosa mi dice questa espressione? Che l'impedenza di ingresso è uguale a la, in pratica, resistenza vista dalla maglia di ingresso di A con E, quindi col beta spento, Ri più R o beta, moltiplicato per il fattore di reazione calcolato per Rs uguale a 0. Ok? Quindi vedete, qui, questo è importante regolare, perché, cioè, poiché tipicamente il fattore di reazione lo scegliamo molto grande, quindi in generale beta con E è molto maggiore di 1, abbiamo che la Rif è molto maggiore dell'Ri, cioè, la resistenza, Ri è la resistenza delle reti di azione, con un tipo di reazione come quello che avevamo fatto vedere, otteniamo una resistenza di ingresso che è molto maggiore di quella della rete di reazione. Molto maggiore per quale motivo? Beh, un po' perché viene sommato un termine, ma quello sarebbe poco, la cosa importante è che viene moltiplicato quel fattore di reazione, che può essere un fattore tipo 100, 1000, effettivamente è molto molto grande. Ok? E quello che è molto, diciamo, anche importante da segnalare, da ricordare, da notare, questo dobbiamo ricordarci. Abbiamo fatto un prelievo di tensione e un'inserzione di tensione. Ora, come vedrete in realtà tra poco, la cosa che conta veramente è come si fa l'inserzione. L'inserzione conta sulla resistenza di ingresso. Il prelievo, no, in realtà, vi faccio vedere tra l'altro tra poco, che anche se facciamo un prelievo di tipo diverso, ma l'inserzione è sempre di tensione, otteniamo questo stesso tipo di resistenza. E' il meccanismo dell'inserzione qui che conta. Va bene. Comunque è una cosa importante che adesso noi conosciamo dell'amplificatore in reazione, conosciamo sia la funzione di trasferimento e sia conosciamo anche la resistenza di ingresso, l'impedenza di ingresso e ovviamente, ora vediamo anche che possiamo conoscere l'impedenza di uscita. Vediamo come si fa il conto. In caso dell'impedenza di uscita, ci conviene aprire un attimo una parentesi. sì, perché l'impedenza di uscita in realtà si può calcolare in due modi diversi, vediamoli un po' tutti e due. Da definizione, che cos'è l'impedenza di uscita di un sistema a due porte? Io devo spegnere tutti i generatori indipendenti, quindi immaginate che sia questo, quindi per calcolare la resistenza di uscita, la definizione operativa, spengo i generatori indipendenti, applico un generatori di tensione sull'uscita, misuro la corrente che passa nel generatori di tensione e questa è la resistenza vista. La resistenza Eteven in vista all'uscita, quindi è Vp su Ip con tutti i generatori indipendenti spenti. Ok? È la resistenza di Tevin che si vede all'uscita. Oh, c'è un modo indiretto di misurarla? Beh, in realtà sì, perché vedete, se questa cosa è vera, voi sapete che la porta d'uscita potete schematizzarla con l'equivalente Eteven in generale, no? Quindi immaginate l'equagenatore. Io posso schematizzare di sicuro l'uscita come una resistenza di Eteven, che è esattamente la resistenza di uscita che voglio misurare, e un generatore serie di tensione che è proporzionale al generatore indipendente, quindi a VV lo chiamiamo. Allora, un modo per calcolare indirettamente l'RO invece di usare questa definizione, questa è una definizione, è quella di misurare o calcolare due altre cose. Una è la tensione di uscita a vuoto del circuito. Questa la chiamano VO0, no? E' la tensione che c'è qui, VO0, che cos'è? E' la VO quando la corrente di uscita è nulla. Questa cosa che scrivo così è una condizione, no? Quindi è quella. E poi posso calcolare la corrente di uscita di cortocircuito. che è definita come IOCC e la corrente IO se forzo la tensione di uscita a zero. Se metto a zero la tensione di uscita. Allora, con queste due quantità noi possiamo ricavare la resistenza di uscita. Ve lo faccio vedere banalmente perché vedete, la tensione di uscita a vuoto, se prendo questo circuito dove ho messo l'equivalente Tevelin, è esattamente a V per V. D'accordo? Quindi è un calcolo, cosa c'è di interessante questo calcolo? che è un calcolo che posso fare senza applicare un generatore sull'uscita e lasciando il generatore sull'ingresso. Perché queste sono le cose utili. Allora, vedete qua, per esempio, VO zero è a V per V, però IOCC, immaginate la situazione, se mettete questo in cortocircuito, cosa succede? Che la corrente è uguale ad a V, V diviso a R. E quindi vedete, se fate il rapporto VO zero diviso I OCC, viene proprio RO. Quindi se io non conosco il RO, però ho un modo per misurare o calcolare la tensione di uscita a vuoto, il corrente di uscita e il cortocircuito, mi basta. Mi bastano quelle due, faccio il rapporto tra le due e trovo il RO. Ok? Ora, ci sono casi in cui è più veloce passare dalla definizione e ci sono casi invece in cui è più rapido utilizzare quest'altro meccanismo. facciamolo un attimo nel nostro caso, giusto per applicare il contesto che abbiamo visto adesso. abbiamo detto quindi impedenza di uscita abbiamo ROF uguale a VO zero diviso I OCC che cos'è VO zero? VO zero è lo posso scrivere in questo modo come il limite per RL che tende a infinito di VO che quando la corrente è nulla cioè essenzialmente vuol dire che la tensione che è la resistenza del carico è infinita o perché mi aspettate, andiamo avanti questa qui invece io OCC la scrivo come la corrente d'uscita che è VO diviso RL nel limite del cortocircuito cioè nel limite in cui RL tende a zero ok? sono due limiti il rapporto tra due limiti devo fare allora ora per semplificare le cose io potrei fare questa operazione qui divido cioè voglio riutilizzare i risultati che ho già ottenuto in modo da far prima divido sopra e sotto per VS così scrivo i limiti come limiti di due funzioni di trasferimento e poi sostituisco i valori che ho trovato ok dunque questo questo qui è A con F quindi l'operazione ho fatta ora questo è il limite che devo fare allora prendiamo l'espressione di prima A con E ce l'avevamo già prima che cos'è che dipende da RL di queste espressioni? soltanto A con E A con E l'abbiamo calcolato prima ed era questa qui aspettate un po' se la trovo era questa qui quindi vedete dipende da RS eh non da RS devo sto da RL che cambiano dipende da RL vedete RL compare qui e qui quindi posso fare il limite ora mi copio questa espressione di là così ci lavoriamo meglio dunque abbiamo detto av per RL parallele RI beta diviso RO più RL parallele RI beta e poi abbiamo RI diviso RI più RS più RO beta ok allora cosa facciamo adesso vedete in pratica sopra e sotto c'è la stessa espressione quello che cambia è che chiaramente RL ha in due limiti diversi allora banalmente per farlo un po' breve i termini che di A con E non dipendono da RL cioè AV e quest'altro partitore vedete quando le vado a sostituire si semplificano sopra con sotto quindi di fatto se ne vanno invece quello che mi rimane sono i termini che dipendono da RL perché poi quando vado a fare il limite hanno destino opposto allora proviamo a fare la cosa quindi di sopra mi rimane dunque quando vado a fare il limite l'altra cosa che dovete notare è questa quando RL tende a 0 A con E va a 0 perché vedete se RL tende a 0 questo parallelo va a 0 e A con E va a 0 quindi qui quando c'è il limite per RL che tende a 0 ok e cosa succede? tende a 0 a con E qui tende a 0 anche a con E qui dentro e anche RL ovviamente tende a 0 quindi c'è uno 0 su 0 che dobbiamo risolvere no? vedete c'è questo termine qui a con E va a 0 e RL tende a 0 quindi va fatto questo limite qui dentro invece è più facile perché a con E va a 0 quindi 1 meno beta a con E va a 1 quindi questo lo so dove va ok? quindi questo se ne va di questi termini a con E sopra e sotto invece le parti a comune si semplificano e se ne vanno quindi cos'è che mi rimane? mi rimane nel numeratore questo pezzo dunque questo qui questa frazione qui fatta per i limiti per i limiti di RL che tende a infinito e nel parallelo se ho RL in parallelo a un'altra cosa quando RL tende a infinito mi rimane un'altra cosa quindi qui mi rimane R i beta diviso RL e diviso RO più R i beta questo è il numeratore poi c'è 1 meno beta a con E che invece mi rimane 1 meno beta e questo e qui stavolta il limite lo posso ridurre a un limite fatto di a con E al limite per RL che tende a finito di a con E ok poi c'è il denominatore proviamo a metterlo subito qui sotto il denominatore è questa roba qui e devo fare quindi il limite per RL che tende a 0 di 1 su RL qua che cos'è che mi è rimasto dal posto di a con E cioè questa roba qui soltanto la frazione che il resto si è semplificato ecco stavolta nel limite per RL che tende a 0 quindi questa frazione che succede il denominatore se ne va perché se RL tende a 0 mi rimane soltanto RO al denominatore quindi qui mi rimane un RO al denominatore il numeratore il numeratore lo tenterà RL se non lo vedete al volo facciamo il parallelo scriviamolo per esteso e mi rimane solo questo e poi c'è 1 1 quindi va via quindi questa è l'espressione finale ok ora questa la possiamo scrivere in modo un pochino più compatto riduciamo i piani di frazione quindi qui mi viene R e beta diviso RO no aspetta riduciamoli ma non troppo perché se no un po' non si capisce allora qui mi rimane R e beta diviso RO più R e beta ok qui sotto rimane 1 meno beta per il limite di RL che tende a infinito diacone ok e poi c'è anche questo ho questo qui che cos'è come quanto fa questo limite e guardate bene allora sto facendo il limite per RL che tende a 0 quindi questo qui questo se ne va perché sommate R e B rimane R e B il resto vedete ho RL a numeratore RL a denominatore quindi il termine 0 su 0 si semplifica quindi qua rimane soltanto a questo punto non c'è più niente che dipende da R e beta quindi il limite è fatto mi rimane soltanto che si semplice non c'è più niente non c'è più niente non c'è più niente mi rimane quindi qui soltanto R i beta diviso no aspettate no mi rimane no c'è un'altra semplificazione di qua dopo dopo questa semplificazione qua mi rimaste il beta a numeratore e il denomatore quindi se ne va mi rimane R e O che però passa sopra a numeratore quindi fa così quindi mi viene questa roba qui il numeratore che è un R e O parallelo R e beta diviso 1 meno beta questa volta lo scriviamo così che ha lo stesso significato R e L che nel limite A con E nel limite che nel R e L tende a infinito e questa è l'espressione finale della resistenza d'uscita vedete qui l'effetto è opposto rispetto a prima cioè il fatto di avere questo tipo di reazione fa sì che la resistenza d'uscita del sistema reazionato sia molto più bassa della resistenza d'uscita del sistema non reazionato perché vedete c'era soltanto R e O devo metterci R e B in parallelo che già fa scendere la resistenza d'uscita e poi va diviso per il fatto di reazione che come al solito è un numero tipicamente alto ma molto grande questo fatto di reazione c'è particolare dentro a con E c'è questo termine A che rende tutto molto grande ok quindi questo tipo di reazione intanto per ricapitolare mi ha fatto aumentare la resistenza d'uscita del fattore di reazione e ridurre la resistenza scusate aumentare la resistenza d'ingresso del fattore di reazione e ridurre la resistenza di uscita del fattore di reazione ok notate non è esattamente lo stesso fattore di reazione perché vedete qua avete 1 meno beta con E calcolato per L che tende a finito nell'esempio della resistenza ingresso è calcolato per RS che tende a 0 quindi se guardate come è fatta l'espressione di A con E non è esattamente la stessa cosa però diciamo l'ordine di grandezza è lo stesso insomma anche un po' di più dell'ordine di grandezza perché questi partitori poi nella maggior parte dei casi contano abbastanza poco spostano abbastanza poco il grosso del lavoro lo fa con V ok quindi va bene d'accordo e cosa facciamo adesso adesso dobbiamo prendere e guardare quegli altri tipi di reazione e vedere se riconosciamo più o meno le stesse cose o cose in qualche modo analoghe quindi con un po' di pazienza ci prendiamo anche gli altri meccanismi di reazione e il primo l'altro che ci rimane è un'inserzione di tensione e prelievo di corrente stavolta quindi e quindi è quello che si chiama serie serie inserzione serie e prelievo serie com'è che funziona adesso abbastanza ora possiamo andare un po' più spediti perché il meccanismo l'abbiamo già visto no comunque questi sono i due reti di reazione e direzione e l'inserzione è tipo serie quindi vuol dire che come quella che abbiamo visto prima cioè sono inseri il generatore ingresso l'uscita della rete del beta e l'ingresso della rete di A ok fatto in questo modo il prelievo invece è un prelievo di tipo parallelo scusate serie anch'esso di corrente quindi vuol dire che la corrente d'uscita quella che passa nel carico poi viene ad essere inserita all'ingresso di A quindi stavolta è io beta che è uguale a io e invece la tensione d'uscita sarà diversa dalla v beta ok quindi sono in questo caso due tensioni differenti come si è che si scrive la grandezza di uscita è la grandezza che viene prelevata e quindi è una corrente stavolta la grandezza d'ingresso è una grandezza che viene inserita e quindi è sempre la tensione quindi in questo caso la con f che vogliamo calcolare che è sempre x di o su x di s è uguale a v o e no a io diviso v s ok vediamo la rete del beta in generale come è fatta quindi noi dobbiamo metterci in questa situazione abbiamo io beta e v o beta e di qua abbiamo v f e f noi la scriviamo così la matrice 2x2 la grandezza prelevata è una corrente la grandezza inserita è una tensione quindi vanno al primo costo poi qui c'è l'altra grandezza della porta d'uscita d'ingresso d'uscita e qui c'è l'altra grandezza della porta d'ingresso questa è l'organizzazione a questo punto possiamo scrivere tutto la prima quantità la chiamiamo beta quindi beta è per definizione in questo caso v f su i o beta calcolata per i f nulla quindi a vuoto ok poi questa qui è una r o beta perché riguarda mettere in relazione tensione e corrente di uscita queste sono definizioni sono anche operative nel senso che mi dicono poi come calcolarle come calcolare le quantità e poi c'è r i beta che è questa qui che è v o beta diviso i o beta è la resistenza d'ingresso della rete di beta calcolata si vede bene da qui per i f uguale a 0 quindi con l'uscita vuoto e poi questo termine l'ultimo termine ricordate abbiamo detto che prendiamo sempre uguale a 0 ma chiaramente sappiamo che è un'approssimazione una volta fatto questo noi possiamo disegnare il circuito equivalente è piuttosto banale perché vf è uguale a beta i o beta vedete la tensione vf ha la stessa espressione che abbiamo visto prima quindi ho beta i o f che è un generatore di tensione controllato dalla corrente i f quindi beta stavolta è una tensione viso una corrente quindi una trans resistenza e poi più r o beta per i beta che vuol dire una resistenza serie di valore r o beta la corrente è questa qui e per l'ingresso vale invece più semplicemente v beta è uguale a r i beta per i o beta quindi i o beta è questa e v o beta è questa quindi questo è il circuito equivalente ok fatto questo cosa dobbiamo fare dobbiamo fare il calcolo di cioè vedere che effettivamente possiamo esprimere la funzione di trasferimento in funzione di acone questo è un altro passo che ci manca quindi prendiamo la rete ci sostituiamo il posto del beta il circuito equivalente d'accordo quindi disegniamo tutto e qui c'era il carico questo è sbagliato qui c'è un pellevo di corrente quindi la corrente che passa nel carico vi è importata in ingresso ok qui invece in uscita abbiamo abbiamo detto il prelievo ok vabbè quindi qui abbiamo detto abbiamo beta e o beta più resistenza e o beta e di qua abbiamo il ripeto ok bene allora a con f vi ricordo che è io beta diviso vs io diviso vs qui ci ricordiamo che questo è io quindi io e io beta sono uguali a con e allora facciamo come prima cioè definiamo a con e che è uguale alla funzione di trasserimento ma è calcolata per beta uguale a 0 quindi spegnendo il generatore di tensione controllata in uscita e poi facciamo lo stesso ragionamento di prima se beta è uguale a 0 allora io è uguale ad a con e per vs se invece beta è diverso da 0 guardando il circuito devo scrivere per forza che io è uguale ad a e vs più beta no io è uguale ad a e non c'è più soltanto e per vs ma al posto di vs devo aggiungere semplicemente beta io b beta io b che è beta io ok quindi questo è l'unica differenza questa cosa qui è una cosa diciamo relativamente piccola però mi consente di scrivere questa operazione mettere in evidenza io e scrivere 1 meno beta a con e per io uguale ad a con e per vs e questo mi dà subito che a f che io su vs può essere scritta come a con e diviso 1 meno beta con e di nuovo vedete l'espressione è la stessa di prima attenzione che beta e a con e non sono definiti nello stesso modo di prima se guardate le definizioni non sono le stesse di prima ok quindi c'è da c'è da è interessante il fatto che la formula sia la stessa però il significato dei parametri è leggermente diverso ok ora visto che ci siamo possiamo anche vediamo un po' se ce la facciamo a farlo qua fare il calcolo di a con e quindi qui come lo faccio a fare devo mettere in realtà lo posso fare molto rapidamente perché ho fatto una cosa simile prima quindi ora che devo fare ho a e beta che sono questi qui c'è il rei qui c'è il reo e qui c'è av per v questo è per la con e e per il beta dobbiamo mettere tutto va bene in realtà beta io e qui devo mettere r o beta ok e poi facciamo come prima banalmente V è un VS per un rapporto di partizione come prima perché il circuito è rimasto lo stesso cambia sull'uscita ma sull'ingresso è rimasto come prima poi noto che ho VS o VI io ho è uguale ad V per VI diviso la somma delle resistenze serie R O più R L più R i beta dove R L è questa qui quindi sostituendo mi viene cioè sostituendo cosa vuol dire io questo VI la posso prendere e mettere qui dentro e quindi posso calcolare V O su V S V O su no I O su V S I O su V S per beta uguale a 0 è uguale a mi viene facciamo tutto insieme a V diviso allora devo fare R O più R L più R i beta denominatore a buono metto al posto di V devo mettere R i diviso R s più R i più R beta ok e vedete quindi praticamente stesso ragionamento di prima cosa succede che questo dipende dal carico dal generatore dalla resistenza del beta praticamente al connessente tutto quello che c'è in giro però io adesso ho fatto per calcolare A con F ho bisogno di A con E e so come si trova ho bisogno di beta e vi ho fatto vedere come si trova ok quindi ora l'unica cosa che è utile fare adesso è mettersi a valutare resistenza di ingresso impedenza ingresso e impedenza d'uscita come abbiamo visto prima quindi proviamo a farlo adesso possiamo fare anche un pochino più rapidamente di prima impedenza di ingresso ricordiamoci quello che ci siamo detti posso prendere questo disegno IS questo devo fare VS su IS nel caso di generatore d'ingresso ideale quindi con RS nullo abbastanza facile perché vedete io so quanto fa IS l'equazione la corrente nella prima maglia e quindi è uguale a VS più beta IO che sono i due generatori di tensione diviso la somma delle resistenze della maglia d'accordo questo che è RS più REI più RO beta quindi ricapitoliamo anche allora abbiamo detto RF impedenza d'ingresso uguale a VS su IS calcolata per beta per RS uguale a 0 allora io so che IS è uguale a VS più beta IO diviso RS più RI più RF ok vabbè ora io cosa devo fare qui mi devo ricordare che io su VS l'ho già calcolato quella cosa che ho chiamato A con F è uguale ad A con E diviso 1 meno beta con E quindi a questo punto appena mi ricordo questo qui lo posso scrivere come VS che moltiplica 1 più beta A con E diviso 1 meno beta con E questo è il numeratore denominatore e mi rimane quello di prima ma in questo conto l'ho già fatto è esattamente lo stesso che abbiamo fatto nel caso di prelievo di tensione inserzione di tensione l'unica cosa che cambiava è che qui invece di con E c'era V con E poi da lì a parte quello poi era perfettamente identico quindi il risultato non so già cosa mi deve aspettare se io faccio il mio cune multiplo qui cosa succede mi viene 1 meno beta con E al denominatore e al numeratore mi rimane 1 perché invece faccio minimo con il multiplo mi viene 1 meno beta con E più beta con E al numeratore quindi c'è questo e poi c'è questo qui e quindi Vs su Is uguale a devo fare il limite e quindi a questo punto usando la definizione Rif devo fare Vs su Is se per limite di Rs che tende a 0 vedete cosa viene viene come prima Ri più no RF non esiste si chiamava R o beta la resistenza sulla questa è R o beta scritto RF perché era la diviazione ma insomma l'abbiamo chiamata R o beta quindi qui viene Ri più R o beta che moltiplico 1 meno beta a con E calcolato a con E quando calcolato per RS uguale a 0 stop e questo l'abbiamo già trovato prima e quindi non ci aggiunge molto vedete l'anticipato l'imperienza ingresso è una cosa che dipende da come viene fatta l'inserzione quindi sia che l'inserzione sia fatta di attenzione sia che l'inserzione sia fatta di corrente mi viene sempre la stessa cosa per l'imperienza d'uscita io come devo fare devo fare facciamo come vi ho fatto vedere prima v0 diviso io cc dove v0 è il limite per rl che tende a infinito di vo per comodità vabbè lascio uno spazio perché voglio dividere per gli s direttamente qua di qua cosa avrò il limite per r che tende a 0 perché sono un cortocircuito di vo su rl va bene devo fare i due limiti ora invece di fare i due limiti delle tensioni mi conviene fare i due limiti delle non aspetta una cosa qui faccio perché in questo caso cos'è che ho sbagliato che la grandezza è uscita e la corrente non la tensione quindi abbiamo detto che x o è la corrente allora qui devo cambiare una cosa questa è io io cc è il limite per r che tende a 0 di o e basta e vo è invece io per rl quindi questo è il limite per rl che tende a infinito della tensione d'uscita che è la corrente d'uscita per rl fatta quando rl tende a infinito ora è evidente che non viene infinita la vo perché quando rl tende a infinito poi la corrente tende a 0 il prodotto tipicamente rimane finito ok quindi stavolta devo scrivere così perché ripeto la grandezza di uscita è la corrente non la tensione ma per comodità per introdurre le funzioni di trasferimento divido quelle che ho già trovato questa qui che si chiama con f divido per os sopra e sotto così uso dei pezzi che già conosco in questo caso cosa mi viene mi viene quindi limite per rl che tende a infinito di posto di a con f posso scrivere a con e diviso 1 meno beta con e per rl e qui ho il limite per rl che tende a 0 di a con e diviso 1 meno beta con e allora a con e uso quella che ho già trovato è questa qui no? vedete dipende da rs sì come dipende solo questo pezzo quindi i primi due pezzi non dipendono da rs e com'è che dipende? se rs tende a 0 a con e tende a un valore finito ma se rs tende a infinito a con e tende a 0 ok ma non c'entro rs stavo facendo rl allora riguardiamo rl è il stesso discorso però se rl tende a 0 a con e tende a un valore finito se rl tende a infinito a con e tende a 0 quindi in questo caso per esempio qui c'è questo limite qui il limite per rl che tende a infinito di 1 meno beta a con e siccome a con e tende a 0 tende a 1 quindi questo se ne va poi i termini che compaiono in a con e sia sopra sia sotto si semplificano abbiamo detto quelli che non dipendono da rl e quindi che cos'è che rimane? rimane il limite per rl che tende a infinito di che cosa? i termini di a con e che dipendono da rl quindi il primo e il terzo no sicché si sono semplificati il quarto il secondo 1 diviso r o più rl più r beta quindi qui mi viene 1 diviso r o più rl più r beta quindi questo è tutto quello che rimane di a con e e poi c'è un per rl va bene? o a denominatore invece o a con e mi rimane di a con e soltanto 1 diviso r o più r l più r i beta 1 diviso r o più r l più r i beta va bene? e poi diviso 1 meno beta a con e ok adesso facciamo un attimo il passaggio allora se facciamo il limite un po' di cose si vedono subito no? perché cos'è che succede? se io faccio il limite qui non succede niente sparisce dalla somma e va via qua invece se faccio il limite per rl che tende a infinito vedete in pratica comanda non soltanto questi due termini al numeratore e al denominatore quindi il limite fa 1 quindi io questo lo posso già scrivere qui il limite fa 1 poi a denominatore questo r o più r i beta che è a denominatore il denominatore va su quindi me lo trovo sopra e mi trovo esattamente una cosa del genere mi si gira tutto ho r o più r i beta che moltiplica il limite per r l che tende a 0 di 1 meno beta a con e che va bene in realtà è più scrivibile facilmente in questo modo r o più r i beta per 1 meno beta a con e dove a con e che è l'unica quantità che dipende da r l è calcolata per r l che tende a 0 ok quindi in questo caso sono due le espressioni da ricordare questa qui la resistenza di ingresso che è come nel caso precedente la resistenza di uscita che invece è molto diversa al caso precedente vedete cosa è successo adesso se il fattore di reazione è grande come spesso succede se beta con e in modulo è molto maggiore di 1 r o f viene molto maggiore di r o ok guardate nel caso precedente noi abbiamo trovato che il fattore di reazione nella resistenza di uscita ve lo faccio vedere era a denominatore vedete quindi quando faccio un prelievo di tensione come nel primo caso il fattore di reazione finisce a denominatore quindi vuol dire che io ottengo una resistenza di uscita molto bassa se faccio invece il prelievo di corrente il fattore di reazione mi capita a moltiplicare e quindi questo mi permette di ottenere una resistenza di uscita molto molto grande e io scelgo il tipo di reazione a fare in questo caso il tipo di prelievo esattamente in base a come voglio ottenere la resistenza di uscita se la voglio grande faccio un prelievo di corrente se la voglio piccola faccio un prelievo di tensione ovviamente mi devo accertare che il fattore di reazione sia molto grande e positivo in modulo ok